Il Ministero sbarra la strada dei porti abruzzesi verso l'autorità marittima di Civitavecchia e quanto emerge dall'incontro che si è svolto ieri a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presenti i rappresentanti di diversi ministeri, il governatore d'Abruzzo Marco Marsilio, l'assessore Mauro Febbo e il consigliere regionale 5 Stelle Sara Marcozzi. I 5 Stelle infatti, in linea col presidente Marsilio, sono tra i promotori dell'accordo con Civitavecchia che permetterebbe di aprire, come auspica anche Confindustria, il corridoio tirreno-adriatico fondamentale alla rete commerciale che taglia l'Europa da est a ovest. Ma il Ministero è stato lapidario. Se i porti abruzzesi interrompessero il legame con Ancona e finissero sotto l'autorità marittima di Civitavecchia, l'Abruzzo perderebbe la zona economica speciale e quindi finanziamenti per le infrastrutture. Stando così le cose, ha dichiarato Marsilio, abbiamo le mani legate. Non possiamo andare oltre, ha proseguito il governatore, per non danneggiare l'economia del territorio. Il dirigente del Ministero dei Trasporti, che ha fatto le veci del ministro Danilo Toninelli, ha invitato il presidente della regione a presentare una richiesta al Ministero per il Sud per ottenere i finanziamenti volte a implementare la rete ferroviaria e portuale abruzzese.